Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del Tg6 in primo piano. Un grave fatto di cronaca, infatti tragedia nelle campagne di Canzano in provincia di Teramo, in contrada Pluvicciano, un bimbo di due anni è morto finendo sotto ad un trattore. Il fatto si è verificato nella tarda mattinata di oggi. Vediamo. Un bambino di poco più di due anni è morto in un incidente avvenuto in campagna a Canzano, nel Teramano, in contrada Sodere, non lontano dalla casa di via Pluvicciano, dove vivono sia i genitori che i nonni. A uccidere il piccolo Gioele Capitanio è stata una caduta di testa. Secondo la prima ricostruzione fatta della tragedia, Gioele è caduto dalle braccia del nonno paterno. Il piccolo era nella cabina del trattore gommato, parcheggiato nel cortile della sua abitazione. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire se l'uomo stesse manovrando il mezzo agricolo, tenendo in braccio il nipote, oppure se stesse scendendo dal trattore quando ha perso il controllo del piccolo. A un certo punto Gioele sarebbe scivolato, cadendo all'indietro da un'altezza di poco superiore a due metri. Con la testa avrebbe colpito violentemente una delle scalette che servono per salire sul trattore. Il nonno, sconvolto, ha raccolto il nipote e si è diretto verso casa. Appena arrivato ha avvisato i familiari e chiamato i soccorsi, quando due ambulanze del 118 sono arrivate in una drammatica corsa contro il tempo. Purtroppo non c'era più nulla da fare. I carabinieri hanno quindi ricostruito la dinamica dell'incidente, coordinati dal magistrato di turno della procura di Teramo, il PM Sciarretta, che ha iscritto il nonno del piccolo sul registro degli indagati per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia sul corpicino che sarà eseguita questo mercoledì. Tutto il paese è sconvolto dalla tragedia avvenuta alla famiglia Capitanio e si è stretta intorno al dolore dei genitori Sandro e Flavia, che hanno anche una figlia di poco più grande. I rumors dei giorni scorsi sono diventati ufficiali. Ryanair, il principale vettore che opera nell'aeroporto internazionale d'Abruzzo, lascia la regione chiudendo la propria base operativa e portando via il suo aeromobile. Resteranno solo due voli alla scadenza del programma estivo 2016, il prossimo 27 di ottobre. Vediamo. Tanto tonò che piove ed in questo caso è un vero e proprio uragano, con una lettera ufficiale inviata oggi alla saga, Ryanair saluta l'Abruzzo e se ne va, chiudendo la base con all'attivo 30 lavoratori e portando via da pescare il suo aeromobile. Dunque, dal 27 di ottobre, chiusura della base aperta nel 2009, riduzione del programma dei voli a due destinazioni, con conseguente cancellazione dei voli per Londra, Francoforte, Bergamo, Barcellona, Dusseldorf, Parigi e Charleroi, garantiti sino alla fine della Summer 2016 già in vendita sul sito della compagnia. Sempre nella stessa nota pervenuta saga da Ryanair, la compagnia irlandese attribuisce all'incremento delle addizionali comunali le motivazioni che hanno generato la decisione di sospendere parte della propria operatività sull'aeroporto d'Abruzzo, visti gli impatti negativi, scrive la compagnia, sulla redditività delle rotte e che quindi rende insostenibile il mantenimento di alcune destinazioni. Il vettore irlandese ha comunque indicato una disponibilità a rivalutare le decisioni assunte in caso della prospettazione di forme compensative a tali incrementi resi disponibili entro le prossime settimane. Dal canto suo la saga fa sapere con una nota ufficiale di aver comunque avviato la ricerca di vettori potenzialmente interessati ad operare sullo scalo abruzzese, ma è chiaro che questo potrebbe essere un colpo mortale per l'aeroporto d'Abruzzo. Inoltre il presidente della saga, Mattoscio, getta acqua sul fuoco destinato comunque di gigantirsi nelle prossime ore e ricorda i numeri dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Siamo stati all'aeroporto italiano nel proprio segmento di mercato che ha avuto il maggiore incremento dei frussi di viaggettori. Abbiamo raggiunto quota 607.000 viaggettori, tra l'altro contenendo e persino facendo regredire la presenza dei vettori low cost. Tutto quindi è avvenuto come crescita in capo a vettori che gestiscono la fascia del business. Tutto questo ha comportato anche dei vantaggi economici nella gestione dell'aeroporto a beneficio dell'intera comunità della regione, soprattutto dello stakeholder principale che decide di mettere i soldi, che è la regione Abruzzo. Potta e risposta tra Terna e gli ambientalisti sull'entrata in esercizio dell'elettrodotto Villanova-Gissi, secondo la società elettrica in funzione dal 31 gennaio. I movimenti in difesa dell'ambiente parlano di propaganda dell'azienda. Intanto sono iniziati i processi civili a Lanciano. Ancora polemiche sulla realizzazione dell'elettrodotto Villanova-Gissi, oggetto di forti contestazioni da parte dei movimenti ambientalisti e dei proprietari dei terreni su cui si sono poggiati i piloni, questa volta a far discutere la comunicazione da parte di Terna che dal 31 gennaio scorso gli stessi sono entrati in esercizio. E solo propaganda ribattono gli ambientalisti che a supporto delle loro tesi mostrano una foto che a loro dire testimonierebbe fili non collegati. Secondo Terna invece quei fili sarebbero solo di messa a terra e comunque non sufficienti a dimostrare che l'elettrodotto non è in funzione. Terna inoltre sottolinea che l'opera ormai ultimata va a colmare un gap elettrico del 31,3% dato del 2014 tra l'energia elettrica richiesta e quella prodotta in Abruzzo. Intanto ieri si è tenuta a Lanciano la prima udienza del processo civile per le cause di risarcimento danni intentate da Terna nei confronti dei proprietari dei terreni oggetto di esproprio. Udienza conclusasi con il rinvio al 16 maggio prossimo. Nella causa civile è coinvolta anche Silvia Ferrante la mamma di Paglieta in provincia di Chieti a cui Terna ha complessivamente chiesto 16 milioni di euro di risarcimento danni. Silvia Ferrante è sostanzialmente estranea a questa vicenda nel senso che viene ritenuta responsabile di un danno nei confronti di Terna che noi riteniamo sia assolutamente inesistente. È chiaro che la sua indicazione è stata sicuramente strumentale in questa vicenda. Dobbiamo farlo accertare, questo è il dato sul quale noi puntiamo. Che non è proprietaria e lei ha solamente in alcuni di questi casi partecipato in senso testimoniale, nel senso che era presente quando altre persone, i proprietari, si sono opposti, come la legge prevede, all'immissione del possesso fatta da Terna. Ancora allarme per il riordino della sanità dopo le preoccupazioni per il presidio di Guardia Grele. Ora si teme per la chiusura dei reparti del Mazzini di Teramo. Sulla vicenda interviene l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci che dice che c'è troppa confusione su queste vicende. Vediamo. Ancora sanità e ancora i tagli e i poli ospedalieri. Da un lato Guardia Grele c'era stato un allarme, invece tutto rientrato. Dall'altra si pensa al Mazzini. Di solito parlano di tagli in modo del tutto improprio. C'è una riconversione presso il presidio e la struttura di Guardia Grele molto utile alla comunità perché noi, anziché i 30 posti letto attualmente in carico nella struttura tra reparto di medicina e lungodegenza probabilmente arriveremo a circa 90 posti letto di territorialità che serve molto a una popolazione che va crescendo come età anagrafica. Da questo punto di vista credo che il cittadino, la comunità, la famiglia degli abruzzesi e dell'abruzzese del territorio e della nostra regione troverà un servizio in più e non in meno. Per quanto invece riguarda la riorganizzazione di tutti i presidi, non solo del Mazzini di Teramo abbiamo già annunciato che la nostra programmazione tenderà ad elevare la qualità dell'assistenza e quindi tutti i presidi d'Abruzzo conosceranno una loro riorganizzazione che altro non è che una destinazione, una vocazione di struttura per struttura. Abbiamo già detto in passato che noi avremmo investito sulle due neurochirurgie dell'Aquila e di Pescara e sulle due cardiochirurgie di Teramo e Chieti. Quindi, come dire, a ciascuno il suo ma soprattutto ciascuno renderà un servizio di spessore e qualità per la nostra popolazione. Il resto delle informazioni che invece circolano troppo spesso parlano di primari, di numero di primari ma io non credo che questo sia il tema prevalente e più importante per il cittadino. Importante consiglio comunale oggi a Loreto Aprutino alla presenza dei rappresentanti di carrozzine determinate dell'Unione dei Non Vedenti per l'approvazione dell'adozione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Importante consiglio comunale oggi a Loreto Aprutino sull'adozione per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Noi siamo con il sindaco di Loreto Aprutino, Gabriele Starinieri. Insomma, davvero un consiglio comunale importante. Oggi forse il suo comune è una delle prime in Italia per questa adozione di questo piano. Le amministrazioni avevano il dovere da qualche decennio di adottare un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Quindi da oggi a Loreto non sarà un volere o non delle amministrazioni, ma è un dovere che ogni anno ci si adopererà con dei fondi specifici per cercare di migliorare la viabilità per il riportatore di handicap. Noi oggi andremo all'approvazione del PEBBA, uno strumento che è previsto dalla legge già da lontano 1986 e pensiamo di essere uno dei pochi comuni d'Italia a portarla all'approvazione in quanto altre amministrazioni stanno ad oggi predisponendo gli indirizzi del PEBBA quando noi invece la diamo ad approvare. Ed è un segnale di sensibilità che questa amministrazione sta dedicando al problema dei disabili. Devo dire che è un'altra battaglia vinta, una battaglia della libertà, della giustizia, della civiltà. È vero che è dura perché c'è una legge che dice che da 30 anni questa legge doveva essere esecutiva e invece siamo qui ancora a rincorrere i comuni. Però insomma oggi è una giornata importante, una giornata storica per Loreto. Ringraziamo il sindaco e tutto il consiglio comunale perché hanno approvato davvero un piano molto importante. Scuole chiuse in diversi comuni del Terramano domani a causa dell'interruzione del servizio idrico disposto dalla Ruzzoreti in 21 comuni per interventi non procrastinabili sulle condotte Isola del Gran Sasso, Castellalto, Roseto degli Abruzzi. Tra i comuni che hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici ci sono Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Castelnuovo mentre il sindaco di Martinsicuro ha ritenuto di dover mantenere aperte le scuole non reputando che possano esserci particolari problemi. Una scelta quella del primo cittadino di Martinsicuro condivisa anche da altri sindaci della costa e dell'entroterra. Per Basciano l'interruzione del servizio idrico sarà limitata alla sola frazione di Zampitto. L'Associazione dei Consumatori Robin Hood di Teramo a nome del Comitato dei Soci Scontenti della Banca di Teramo chiede l'intervento della politica in vista della riforma delle BCC. I soci della Banca di Teramo, già Comitato dei Soci Scontenti, disorientati e arrabbiati chiedono risposte e spiegazioni vista la riforma delle BCC all'Associazione Robin Hood. In che termini? Sì, noi abbiamo già costituito questo comitato per altri motivi. Oggi arriva questa notizia, leggiamo questa notizia perché non avevamo contezza di questa accelerazione della fusione tra Banca di Teramo e Banca di Roma. Ora, la riforma non c'è stata, era stata pronunciata che si aspettava questa riforma per valutare alcune cose. Per noi è principe un rapporto con le banche che sono federate con noi che sono quelle della Federazione Abruzzo e Molise. Questo perché? Perché questa cosa garantisce che la banca rimanga locale. Che interesse a un amministratore di Roma di fare investimenti sul nostro territorio? Accade quello che è accaduto per altre banche che in pratica i nostri risparmi poi vengono investiti altrove. Quindi proprio per evitare questo è importante che la banca rimanga una banca locale. C'è stato già un tavolo di conciliazione? No, no, siamo alle prime battute, non sappiamo che cosa accadrà, non sappiamo nulla. L'unica cosa di cui siamo sgomenti è appunto il fatto che a maggio ci sono le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e quindi c'è questa accelerazione che noi riteriamo debba iscriversi al fatto che qualcuno vuole un posto al sole, evidentemente. Oltre alla denuncia oggi cosa farete? Niente, adesso stiamo valutando, speriamo che intervenga anche la politica perché questo è un fatto che riguarda tutta la città, insomma una perdita per la città, tutta la comunità, insomma non è una perdita solo per i quotidi, per gli azionisti della banca. Inaugurazione dell'anno accademico questa mattina all'Università d'Annunzio di Chieti. Alla cerimonia avrebbe dovuto prendere parte anche il ministro all'istruzione Stefania Giannini impegnata invece sul caso delle unioni civili a Roma. Ad aprire il cerimoniale il magnifico rettore Carmine Di Iglio che ha manifestato la sua preoccupazione sul futuro dei giovani e dell'istruzione. Chissà cosa avrebbe pensato il ministro all'istruzione Stefania Giannini se avesse ascoltato il discorso di apertura del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Chieti, Carmine Di Iglio. L'inaugurazione dell'anno accademico è stata aperta con una lucida, precisa e fredda critica al sistema dell'istruzione italiano. Di Iglio ha raccontato più di 60 anni di storia e di lotte per l'ottenimento del diritto allo studio sfociate oggi in un sistema che fa scappare i migliori all'estero e crea nel nostro paese una cospicua cifra di giovani che non studiano e non ne hanno nemmeno interesse a farlo. Ha parlato di un governo che non si muove in soccorso della mancanza di futuro. Questa data l'aveva scelta lei, il 2 febbraio l'aveva scelta lei perché pensava di non avere impegni istituzionali. Poi le vicende legate alle unioni civili hanno impedito di poter essere presente. Qual è l'auspicio che si sente di dare agli studenti? L'auspicio è sempre quello di studiare perché attraverso lo studio ci si può sicuramente realizzare e guardare con un po' di fiducia al futuro anche in una situazione di difficoltà come ci troviamo dovuto a motivi di crisi economica. A partecipare alla cerimonia tante istituzioni c'era il neo sottosegretario di Stato alla giustizia Federica Chiavaroli che ha rivolto un augurio a tutti gli studenti. I ragazzi devono investire sulla propria formazione perché da questo viene il loro futuro. Ci devono credere, si devono appassionare, devono studiare. L'investimento sulla formazione è la chiave del futuro. Presenti alla cerimonia il rettore di Teramo Luciano D'Amico e il rettore dell'Università di L'Aquila Paola Inverardi e entrambi concordi nel bisogno di offrire più servizi e competenze ai giovani in un'epoca che è segnata dalla crisi e aumenta i livelli di competitività. Mi fa piacere partecipare a questa festa della D'Annunzio mi permetto di dire della D'Annunzio e quindi davvero del sistema regionale universitario. Un grande impegno rinnovato, una grande risorsa per la regione Abruzzo per capacità di produrre ricerca di qualità, per capacità di attrarre gli studenti. All'auspicio è quello di andare sempre più in direzione di un unico sistema universitario regionale che sia complementare e che faccia dell'esistenza di queste tre università una vera forza per la regione Abruzzo. Il polo museale resterà a Chieti, sono le parole del sindaco Umberto Di Primio che smentisce il trasferimento all'Aquila. Il caso nasce dal provvedimento sulla riorganizzazione delle soprintendenze fissato dal decreto del ministro Franceschini. Il polo museale è una specie di braccio di ferro. Chieti non vuole che venga spostato all'Aquila e il sindaco in qualche modo garantisce e tranquillizza che non succederà. Guardi, io non voglio nessun braccio di ferro con alcuno, men che meno con la città dell'Aquila. Credo che sia invece evidente che nel decreto emanato qualche giorno fa dal MIBACT non vi è traccia della dislocazione dei poli museali perché non era un argomento di quel decreto. Il polo museale è stato regionale, è stato istituito due anni fa, poco meno di due anni fa nella nostra città. Credo che l'Aquila abbia giustamente da rivendicare alcune presenze sul proprio territorio come ad esempio la soprintendenza che starà lì per tutto il periodo fino al 2019 e oggi ma certamente vi sarà ancora di più successivamente la soprintendenza unica del cratere. Ha il Maxi, il museo che è stato promesso dal governo e verrà portato nella città dell'Aquila che sarà una ricchezza non solo per la città dell'Aquila ma per tutto l'Abruzzo e quindi ritengo che oggi non serva fare battaglia. Il polo museale è a Chieti, rimanga a Chieti con i suoi due musei così come la soprintendenza ai beni culturali e alle belle arti e paesaggistica può rimanere a Chieti perché là già è. Autisti del trasporto pubblico locale che vanno in pensione ma che continuano a lavorare per ditte di trasporto pubblico private. Questa è la denuncia della Filt CGL che sebbene non ci sia alcun tipo di illecito dal punto di vista della legge si schierano contro un malcostume tutto abruzzese. Rolandi avete denunciato un fenomeno molto abruzzese che è quello che riguarda gli autisti del TPL, il trasporto pubblico che vanno in pensione prima perché così è previsto dalla legge che spesso però tornano a lavorare al servizio del privato. Avete scritto una lettera a Boeri, presidente dell'Inps avete chiesto anche il coinvolgimento del presidente dell'Aggiunta d'Alfonso. Sì, effettivamente come dice lei è un fenomeno tristemente abruzzese nel senso che pur essendoci una legislazione favorevole a questo tipo di attività che è stressante, elogorante e che prevede appunto di poter anticipare l'età pensionabile di qualche anno rispetto alla generalità dei lavoratori invece succede che lavoratori che effettivamente anticipano la pensione vengono poi assunti in aziende private per svolgere un tipo di lavoro che è quello di autista, di autobus o anche autisti di pulmine, di scuolabus e quindi di fatto continuando a lavorare pur essendo in pensione. Resta però il fatto che va probabilmente a creare problemi a quei giovani che sono in cerca di lavoro. Sì, assolutamente, proprio come dice lei non è un fatto vietato dalla legge ma è sicuramente qualcosa di immorale dal nostro punto di vista non è un caso che noi già sono almeno un paio di anni che abbiamo denunciato il fenomeno sia all'amministrazione regionale precedente ma anche a quella attuale e non abbiamo avuto alcun tipo di riscontro. Noi chiediamo un intervento immediato del Presidente della Regione Abruzzo e abbiamo provato anche a rendere partecipe di quello che è purtroppo un fenomeno abruzzese direttamente il Presidente dell'Inps, Tito Boeri. Due donne, fingendosi delle dipendenti dell'Inps, si sono introdotte in casa di una coppia di anziani li hanno raggirati e hanno rubato loro 1000 euro. Vediamo. La Polizia di Stato invita a prestare la massima attenzione alle truffe dei falsi impiegati che si presentano nelle case, soprattutto di anziani. La volante dell'Aquila infatti è intervenuta nei giorni scorsi nel centro aquilano dove una coppia di anziani è stata derubata nella propria abitazione da due donne che si sono presentate come dipendenti dell'Inps. Le false funzionarie sono entrate con la scusa di dover dare consigli sulla nuova normativa pensionistica. Poi l'uomo, su invito delle due ladre, si è allontanato per andare a chiamare sua moglie che si trovava in quel momento da un'altra condomina. Ed è proprio in quel breve lasso di tempo che le due hanno sottratto circa 1000 euro che la coppia di anziani teneva nel comodino della camera da letto. Al rientro della coppia, dopo un veloce colloquio, le due donne si sono allontanate. A quel punto i padroni di casa, insospettiti, si sono accorti della mancanza del denaro richiedendo l'intervento della volante dell'Aquestura dell'Aquila. L'Aquestura rivolge appunto un appello a figli, a nipoti, a vicini di casa di persone anziane affinché ricordino sempre loro di prestare la massima attenzione a chi chiede di entrare nelle loro abitazioni, affermando di dover controllare la posizione pensionistica contributiva, il contatore del gas, della luce, per poi rubare o farsi consegnare denaro ed oggetti di valore. Talvolta i malviventi si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine. In questo caso si raccomanda di controllare dallo spioncino e aprire la porta col catenaccio, chiedendo di esibire un tesserino di riconoscimento anche se dovessero indossare l'uniforme. Occorre ricordare che di solito il controllo domiciliare delle utenze domestiche viene preannunciato con un avviso che indica il motivo, il giorno e l'ora della visita, del tecnico e nessun ente manda personale a casa per verificare l'eventuale presenza di banconote false, scusa solitamente utilizzata per vedere dove una persona conserva il denaro in casa. Le vittime prevalentemente sono persone di età compresa tra i 60 e i 90 anni, il cui numero è sempre molto elevato ogni anno. In ogni caso, se si hanno dubbi, anche i minimi, che la persona non sia quella che dice di essere, la polizia ricorda che è assolutamente necessario telefonare al 113 o al 112. La casa circondariale di Teramo apre le porte al centro sportivo italiano. Sottoscritto questa mattina un protocollo d'intesa che coinvolgerà i detenuti. Direttore, in primis come nasce questa iniziativa? Nasce attraverso innanzitutto il contributo che il primo passo è stato fatto dal Dipartimento che ha stipulato con il CSI, il centro sportivo nazionale, un protocollo e da quel protocollo nazionale ovviamente se ne scaturisce che cosa? Che tutte le articolazioni carcerarie e periferiche vi si devono adeguare. Ma questo ovviamente sta a significare che cosa? Un protocollo d'intesa che prevede tutta una serie di attività sportive e formative che il CSI si impegna a portare avanti all'interno della casa circondariale, che prevede appunto tante attività, oltre a quelle sportive dove saranno protagonisti gli operatori e gli allenatori del centro sportivo italiano, quelli delle società sportive affiliati al CSI, ma anche attività formative che verranno programmate nel corso dell'anno per la formazione appunto dei detenuti anche nel campo arbitrale, tecnico e quant'altro. Quindi anche un'opportunità poi di reinserimento degli stessi. Quanto è importante per te questo progetto? È un bel progetto, è un bello sport, mi fa passare il tempo bello. Piace il rugby? Sì, dal primo gioco che ho fatto mi è piaciuto, sempre vado a fare questo sport. Ci sta una volta a settimana, sappiamo che ogni sabato abbiamo allenamento e così ci organizziamo tutti. Oggi il carcere sta migliorando, sta tendenzialmente cambiando i connotati proprio giuridici, perché oggi bisogna concepirlo non più come un sistema di sicurezza, è luogo prevalentemente afflittivo e di sofferenza. Bensì la tendenza prevalente deve essere vista come un luogo dove le attività implementandosi danno l'opportunità al detenuto di favorirlo verso il suo reinserimento sociale. Apriamo ora la pagina sportiva, ieri alle 23 lo stop al calcio mercato, diversi movimenti soprattutto per il Pescara ma anche per la Virtus Lanciano, meno movimenti in Lega Pro per le due abruzzesi Teramo e l'Aquila, un resoconto delle ultime ore di mercato nel prossimo servizio. Stop al mercato ieri sera alle 23, il Pescara esce dalla sessione invernale, se possibile ancora più rinforzato. I pezzi pregiati sono rimasti in rivale adriatico, benché la coppia del gol, la Padula Caprari, sia stata al centro dell'attenzione dei media nazionali per via dell'interesse mostrato dalla Juventus, un interesse che al momento si è tradotto in una opzione non formale, diciamo una sorta di accordo verbale, per rimettersi a tavolino già da giugno per portare avanti una trattativa che potrebbe far giungere nelle casse del Delfino 10 milioni di euro per entrambi. O forse di più, se i due goleador biancazzurri continuassero a giocare e segnare così fino alla fine della stagione, con l'opportunità che restino a Pescara anche il prossimo anno in caso di promozioni in Serie A. Ma di questo se ne parlerà appunto più avanti. In entrati il Pescara si è assicurato due ritorni, uno quello del terzino sinistro Antonio Mazzotta, in prestito con diritto di riscatto dal Cesena, il quale surrugherà la cessione di Riccardo Fiamozzi al Genoa. L'altro ritorno è dell'attaccante Cristian Pasquato, in prestito secco dalla Juventus, 7 gol lo scorso anno in biancazzurro. Il centrale richiesto da Massimo Oddo è il trentenne Andrea Coda, dalla Sampdoria, prestito con diritto di riscatto. Oltre Fiamozzi le uscite sono Mattia Valoti, rientrato dal prestito al Verona e girato subito al Livorno, e Luca Forte, in prestito secco alla Provercelli. A Lanciano tengono più che altro banco il totto allenatore e la contrarietà, espressa dal DS Luca Leone, alla decisione della proprietà di esonerare D'Aversa. La rivoluzione della Rosa è stata completata ieri con operazioni minori, gli arrivi in prestito dei centrocampisti Michele Rocca dalla Sampdoria, Francesco Bergamini dal Bologna e del casolano Manuel Giandonato dal Padova. E, sempre in prestito, del terzino Daniel Di Nicola dal Pescara. Non sono andate in porto le operazioni potenzialmente più impattanti, ovvero la cessione dell'attaccante Guido Marilungo, che è stato vicino alla Terrana, e il ritorno dal Catania del difensore Stefano Ferrario. Gennaio 2016 ha visto la chiusura anticipata di un ciclo tecnico, non solo per l'allontanamento dell'allenatore D'Aversa, quanto per gli addi che tanto hanno fatto discutere del capitano Mammarella, Di Di Cecco, Piccolo, Paghera, più altri sette giocatori. Rosa Ringiovanita, una miriade di prestiti ed una salvezza sempre più appesa ad un filo, in attesa di decisioni sul fronte allenatore. In Lega Pro, ultima giornata sostanzialmente interlocutoria, l'Aquila si è limitata a tesserare il ventenne difensore centrale Luca Bruno, in prestito dal Crotone, più intensa la giornata del Teramo, che ha ceduto a titolo definitivo il difensore Enrico Altobello alla Lucchese, senza riuscire a piazzare gli altri uscenti, Simone Monni e Matteo Loretty. In entrata, tanti no incassati dagli attaccanti Scappuzzi, Beltrame e Lucaforte, e dal centrocampista Iuri Cisotti, sul filo di lana, completato un'operazione minore, il prestito dal Napoli del centrocampista classe 96 Mario Francesco Prezioso, sette presenze nel Melfi nella prima parte della stagione. E oggi prima seduta di allenamento per i tre volti nuovi del Pescara, due come detto sono dei ritorni, Cristian Pasquato e Antonio Mazzotta, e poi il neodifensore Andrea Coda, tutti a disposizione del tecnico Oddo, si sono tutti allenati nel pomeriggio al poggio degli olivi e sempre nel pomeriggio, ma prima dell'allenamento, ha parlato il tecnico Massimo Oddo che ha tracciato un bilancio di questa sessione invernale di rafforzamento del Pescara. Voto 9 e mezzo, 10 la sua prima impressione, poi si è corretto, 9 e mezzo, vediamo. Che poterà il mercato del Pescara? 10? 9 e mezzo, nel senso che quel mezzo glielo diamo se tutto finisce bene. Le esigenze che c'erano erano il centrale, ovviamente sostituire Fiammozzi, l'abbiamo fatto molto bene e in più è arrivata anche la sorpresa di Pasquato che comunque mi rende felice perché è un giocatore di valore, un giocatore che ci può dare qualcosa, certo lì davanti siamo parecchi adesso, però è un problema loro, no non è un problema, è un vantaggio nel senso che c'è tanta concorrenza, sono tutti bravi, i ragazzi sanno che le mie scelte, le mie valutazioni non sono mai condizionate da nessun tipo di fattore e quindi chi merita gioca. Noi abbiamo temporizzato perché volevamo Coda, è l'esatto contrario, nel senso che il suo problema non era scendere in B, voleva essere sicuro che i giochi per lui magari in Serie A non fossero chiusi. L'ha detto anche Andrea Coda, se io avessi avuto bisogno di un giocatore che per forza mi avrebbe dovuto fare 20 presenze, cioè tutte quelle che rimanevano, non avrei preso lui perché non possiamo avere la certezza del suo stato di forma dopo che ha giocato poco negli ultimi anni e ha avuto qualche problema. Io avevo bisogno di un quarto, quello che vi ho detto è sempre stata la verità, avevo bisogno di un quarto numerico, giocatore affidabile, un giocatore di esperienza per caratteristiche e quello che ci serviva. Io ho firmato un quarto stato di due anni perché volevo un progetto, non volevo una cosa così, quindi due anni di contratto vuol dire fare un progetto di due anni minimo. L'obiettivo mio, l'obiettivo personale mio è quello di provare ad andare in Serie A. Il secondo obiettivo, la mia priorità è quella di avere, ma come tutti gli allenatori delle garanzie, queste garanzie sono nella mia testa, nel senso per me sarebbe difficilissimo portare una squadra in Serie A, trovarsi in Serie A e cambiare undici undicesimi di squadra. A me piacerebbe portare un gruppo di giocatori che poi sia in Serie A o in Serie B, indifferente, ma un gruppo di giocatori e quindi capite che è molto più facile, che se si dovesse centrare un obiettivo importante è molto più facile mantenere un gruppo. Nella seduta pomeridiana ancora lavoro differenziato per Memushai, così come anche per Crescenzi, che comunque sta migliorando e potrebbe anche anticipare i tempi di recupero. Ha lasciato anzitempo la seduta di allenamento l'attaccante Caprari per un colpo alla Caviglia. In casa Virtus Lanciano, invece oggi doppia seduta, sempre agli ordini del tecnico della Primavera, Primo Maragliulo, si sono aggregati i nuovi, parliamo dei centrocampisti Bergamini e Giandonato, invece Rocca era arrivato già ieri e poi si è aggregato anche il neodifensore di Nicola, arrivato in presidio dal Pescara. Fermi per i rispettivi infortuni, l'esterno salviato, il centrale Boldor. In Lega Pro i provvedimenti del giudice sportivo, 5.000 euro di ammenda per il Teramo, non ci sono squalificati né sul fronte Teramo né sul fronte L'Aquila, c'è uno squalificato nel Savona, prossimo avversario del Teramo, si tratta del difensore Lebran. E poi ci sono anche le designazioni arbitrali, la partita tra Savona e Teramo sarà diretta da Bertani di Pisa, mentre l'Aquila Ancona sarà diretta da Mastro Donato di Molfetta. E a proposito di Teramo, ascoltiamo oggi le parole pronunciate al nostro microfono dal centrocampista bianco-rosso Paolucci. Noi cerchiamo sempre di vincere la partita, dopo il gol abbiamo recuperato, abbiamo cercato anche di vincerla, però diciamo che questo punto ci sta stretto come era andata la partita. Adesso cerchiamo di dare continuità ai risultati, l'importante è quello di non perdere, noi la partita cerchiamo sempre di vincere e speriamo che domani e sabato riusciremo a vincerlo. Ma la concorrenza è sempre bene, che dai sempre il 100% in ogni allenamento, sono tutti i valori aggiunti dei bravi giocatori e ognuno che scenderà in campo saprà dare il suo contributo. Sì, lui durante tutti gli allenamenti mi dà una mano, mi dice le cose che devo fare, dove sbaglio, dove faccio bene, è un elemento di esperienza, che ci dà un grande aiuto e che in queste altre partite continuerà a darci. Ma il mercato diciamo che noi giocatori non ci pensiamo, ci pensa tutta società. Dopo ogni giocatore che arriva qui a Teramo dà sempre il suo contributo e farà sicuramente bene. E ora parliamo dell'Aquila e chiaramente il day after rispetto alle sentenze di primo grado del processo sportivo Dirty Soccer che tra le altre cose è costata una penalizzazione di 13 punti per la squadra di Carlo Perrone. Vediamo dunque le reazioni a questa penalizzazione. Da 27 punti a 14, dal settimo posto in classifica al terz'ultimo. E' questa da ieri la nuova classifica dell'Aquila Calcio a seguito della sentenza di primo grado sul processo calcio scommesso in Lega Pro. Il Tribunale federale presieduto dall'avvocato Sergio Artico ha attribuito 13 punti di penalizzazione ai rosso-blu e 150.000 euro di ammenda. Una sanzione dimezzata rispetto ai 31 punti che due settimane fa erano stati richiesti dalla Procura federale assieme a 205.000 euro di multa. L'Aquila spera però che l'entità della penalizzazione possa essere ridotta in secondo grado. L'avvocato Flavia Tortorella presenterà entro lunedì 8 febbraio il ricorso in corte d'appello. La strategia è chiara. Dei 13 punti sanzionati in primo grado, 7 riguardano 3 partite successive al 21 febbraio 2015, giorno in cui l'ex responsabile dell'area tecnica rosso-blu, Ercole Di Nicola, uno dei maggiori imputati come responsabile dei presunti illeciti, si dimise da dipendente del club. Si tratta di L'Aquila Tutto Cuoio del 23 marzo, L'Aquila Sant'Arcangelo del 29 marzo e Barletta Catanzaro del 1 aprile. A far ben sperare c'è il precedente in corte d'appello del processo di quest'estate su Pisa Torres e Savona Teramo. In quell'occasione l'Aquila fu assolta dal reato di responsabilità oggettiva proprio per tutte le gare incriminate successive al febbraio 2015. Se quindi dovesse passare di nuovo la linea dei giudici anche per questo secondo filone del processo, dopo il secondo grado di giudizio i rosso-blu potrebbero vedere ridotti 13 punti di penalizzazione a 6-7. Intanto la sentenza è stata accolta con un pizzico di ottimismo dalla squadra del tecnico Carlo Perrone, già a lavoro per la delicatissima sfida di sabato pomeriggio contro l'Ancona. L'allenatore Aquilano ha voluto commentare la sentenza spiegando di essere consapevole che questo sia il momento più buio della stagione e anche il punto più basso di una classifica che però da ore in avanti potrà solo migliorare. Si è inoltre detto sicuro che i suoi ragazzi riusciranno nell'impresa di salvare l'Aquila e il Lega Pro. E su queste sentenze abbiamo ascoltato anche le parole del Presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina. Presidente Gravina, insomma alla luce anche di quello che c'è stato ieri, la sentenza di primo grado di RT Soccer, 13 punti all'Aquila Calcio, qual è il suo commento? Io non entro nel merito dei conseguiti della sentenza, perché ci sono dei documenti, ci sono dei riscontri da parte della Procura di Catanzaro, ma poi credo anche da parte della Procura federale. La cosa che, e quindi auspico comunque che ci sia negli altri due gradi di giudizio una chiarezza maggiore o addirittura altrettanto importante come quella che già è venuta in primo grado. La cosa che vorrei sottolineare, che da Presidente della Lega e soprattutto da uomo di sport, la cosa che più mi preoccupa è che siamo addirittura d'arrivo verso la fine di un campionato e facendo un po' di calcoli di date, di giorni a disposizione tra ricorsi, appelli e collegi di garanzia ho la netta sensazione che siamo a ridosso della fase finale del campionato. Ecco, questo mi rattrista, mi rattrista perché credo che tutti gli sforzi e gli impegni che il mondo del calcio, la Lega Pro porta avanti per far sì che ci sia una regolarità nel campionato e ci sia comunque una valorizzazione di un'immagine diversa rispetto a quella che emerge oggi, purtroppo in questa maniera viene ad essere abbastanza aggredita. Non voglio lanciare accusa nei confronti di nessuno, ma certamente questa è una situazione per quanto riguarda la Lega Pro di grande disagio. Ecco Presidente, da uomo di sport come ha detto, ma anche da abruzzese, secondo lei soprattutto a livello tecnico, perché poi adesso mancano 14 partite, l'Aquila può salvarsi con questo bottino di penalizzazione e eventualmente dovesse rimanere tale anche dopo gli altri gradi di giudizio? Io credo che l'Aquila ha fatto le carte in secolo per potersi salvare, nulla è precluso, ci sono appunto 14 gare, tanti punti a disposizione, nel resto già una vittoria di domenica scorsa fuori, mi sembra che sia stato un ottimo risultato. Ed ora la Serie D, Umberto Marino è il nuovo allenatore del Chieti, prende il posto del dimissionario Donato Ronci. Per anni è stato il vice del tecnico Ivo Iaconi, l'ultima esperienza insieme a Brescia in Serie B. Marino che ha battuto la concorrenza sia di Raffaele Cerbone che di Guglielmo Bacci e ha trovato ieri l'accordo con il patron del Chieti, Giorgio Pomponi. Lo stesso Marino sarà presentato giovedì mattina allo stadio Guido Angelini di Chieti. Il nuovo vice allenatore invece sarà Francesco Nocera che è stato difensore del Chieti nella stagione 1993-94. È tutto per questa terza edizione del TG6, grazie per l'attenzione e buonanotte. Grazie.